Io feci un tampone normale all'ASL, dato che all'inizio ci misero praticamente una settimana mi la risposta, io dopo quattro giorni impazzendo praticamente me lo feci privatamente che venne uno a casa e me lo venne a fare per un tampone rapido, quelli là di tipo con un macchinario 20 minuti e uscì il risultato, e uscì negativo, quando poi invece dopo due giorni mi arriva il risultato dell'ASL che ero positivo. Quando è venuto l'addetto a farle il tampone, questo qua privato, le ha fatto vedere che era un centro autorizzato? Sì, 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 in teoria sì, aveva tutte delle carte, mi ha lasciato una ricevuta e cose del genere. Ho capito, va bene. Quanto l'ha pagato lei il tampone privato? Se non sbaglio 40.